Una vera e propria staffetta tra spacciatori per le consegne di droga durante il lockdown. Così sono finite nei guai sei persone, tra queste anche un minorenne, tutti denunciati dai carabinieri della stazione di Anghiari per spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti risalgono allo scorso maggio, quando erano ancora vietati gli spostamenti tra comuni diversi da quello di residenza. I pusher così avevano ideato questo sistema per scambiarsi la droga e riuscire a rifornire l'intera Valtiberina senza però infrangere il divieto di spostamento dettato dal lockdown. In sostanza gli indagati raggiungevano i confini del proprio comune e cedevano la sostanza ad un altro spacciatore, mettendo così in atto una staffetta che consentiva di approvvigionare l'intera vallata. I sei sono stati individuati al termine di una complessa attività informativa e investigativa nata da un casuale controllo su strada. In quel caso era stato fermato un giovane in possesso di un importante quantitativo di marijuana. L'attività investigativa adesso ha fatto piena luce sul giro di spaccio significativo e sono scattate le denunce per sei persone. Tra loro spiccano nomi già conosciuti alle forze dell'ordine con precedenti per analoghi reati, ma soprattutto un diciassettenne che, nonostante la giovane età, contribuiva appieno alla catena di distribuzione occupandosi dello smercio tra i propri coetanei. Grazie.